In primo luogo è pressoché impossibile agli eredi del PC e anche al PD cancellare le tracce digitali che hanno lasciato sul terreno della gestione della banca, nel senso che la banca è in un'area dominata dalla sinistra ed è stata sempre controllata e guidata dalla sinistra. Le dichiarazioni che vengono fatte oggi in polemica fra vari esponenti della sinistra confermano tutto questo. Dopodiché dovremo vedere gli errori che sono stati fatti, che sono evidenti, a cominciare dall'acquisto della banca del Salento per procedere con l'acquisto della Santander e poi se ci stanno, ma questo ce lo dirà la magistratura, degli elementi penali per quello che riguarda l'operazione dei derivati. Ma nel complesso è stata una gestione sbagliata indipendentemente da aspetti penali che dimostra che quando i comunisti o la sinistra prendono in mano una banca poi alla fine la portano a conduzioni disastrose.